Venerdì 22 maggio 2020. È il 143esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Rita d'Acascia. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rita. Il nome è un'abbreviazione di Margherita. Deriva dal greco margherites e significa perla. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il verde e la pietra associata allo smeraldo. Accadde oggi. Il 22 maggio del 1939 la Germania di Hitler e l'Italia di Mussolini firmano il patto d'acciaio, stringendo così un'alleanza sia difensiva che offensiva fra i due paesi. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 22 maggio ricordiamo il cantautore francese Charles Aznavour e la top model inglese Naomi Campbell. La citazione del giorno. O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Ernesto Che Guevara. Dice il saggio. Chi l'ho da tutti? Non l'ho da nessuno. Il bel paese. Se amate la montagna, una vacanza nella Valle del Chiese fa al caso vostro. La Valle del Chiese si trova in Trentino, al confine con la Lombardia, e accorpa sette comuni e quattordici borghi nei quali sopravvivono i segni della civiltà rurale. Un mondo di prati, antichi alpeggi, foreste e poi montagne, torrenti e laghi. Un mondo ancora intatto, lontano dal turismo di massa, dove scoprire il meglio della tradizione casearia artigianale e fantastici sentieri di trekking. Tra i borghi più interessanti sul percorso troverete Brione, con la chiesa di San Bartolomeo, e Bondone, con i suoi bellissimi murales. Grazie a tutti.